Compagnia della professoressa Cristina De Marco, docente dell'Istituto Alfonso Gatto di Agropoli, sezione musicale per invitare i telespettatori di Cilento Channel all'open day che si terrà il prossimo 12 gennaio. Ovviamente è da dire, da sottolineare anche che il 21 dicembre c'è stato già un open day presso l'Istituto Alfonso Gatto di Agropoli ed è stato quello del liceo musicale. Ecco, mi piacerebbe che lei sottolineasse un attimino anche l'open day che c'è stato già e cosa si è proposto a tutti i genitori degli alunni che ovviamente frequentano le scuole medie. Allora, si è svolto il 21 dicembre in anticipo rispetto a quello del 12 gennaio perché volevamo informare gli alunni e di conseguenza le loro famiglie delle novità di quest'anno. Il liceo musicale Alfonso Gatto ha di recente, anzi proprio dal 3 dicembre, quindi veramente pochissimo tempo, aperto due nuovi laboratori grazie ai fondi strutturali europei, quello di tecnologie musicali e una sala di registrazione audio-video, entrambi dotati di attrezzatura all'avanguardia per offrire una didattica più ampia, innovativa e quindi funzionale. Inoltre da quest'anno, a partire dal 9 al 31 gennaio incluso, invitiamo gli alunni interessati ad iscriversi al liceo musicale ma anche eventualmente accompagnati dai genitori a frequentare le lezioni di strumento pomeridiane nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 13.20 alle 17.20. Sono i giorni in cui sono presenti praticamente quasi tutti i docenti con tutti gli insegnamenti strumentali di cui disponiamo per cui possiamo dare informazioni più dettagliate, eventualmente anche vedere nuovamente la scuola, le nostre attrezzature e, se necessario, offrire un supporto per l'esame di ammissione al liceo musicale che si svolgerà nel mese di febbraio. Raccontiamo un attimino com'è strutturato e quali sono le attività che si svolgono al suo interno. Innanzitutto l'unica istituzione scolastica che offre la possibilità di rilasciare crediti agli studenti, crediti finalizzati poi allo studio presso i conservatori statali di musica. È un liceo presente nella nostra città da quattro anni. Io ritengo che sia un'enorme opportunità per il Cilento e soprattutto per la città di Agropoli perché fino a quattro anni fa gli studenti erano costretti, dopo la terza media, se volevano proseguire gli studi musicali, a spostarsi in minimo nella città di Salerno, mentre oggi hanno la possibilità di una struttura scolastica statale sul posto che offre innanzitutto una grossa formazione musicale, grazie all'insegnamento dei due strumenti, della musica d'insieme e delle discipline teoriche, ma inoltre offre anche una formazione nell'area umanistica e scientifica perché essendo un liceo sono presenti gli insegnamenti di italiano, geostoria, storia e filosofia, matematica e scienze, fisica, inglese, arte, religione, motoria, insomma tutte le discipline presenti in ogni indirizzo di liceo. Ovviamente quelle caratterizzanti sono le discipline musicali. Mentre per quanto riguarda queste per la sezione del liceo musicale, che ovviamente è una novità nella città di Agropoli, dobbiamo cercare di sostenerlo a più non posso perché è un grande privilegio per tutti coloro che studiano musica, ma oltre al liceo musicale ci sono anche le altre sezioni, quindi scientifico e classico e ci sarà appunto il 12 di gennaio l'open day. Il 12 gennaio ci sarà l'open day presso la sede centrale del liceo Gatto in via Dante Alighieri per il liceo scientifico, scienze applicate e linguistico, mentre presso la sede di via Piodecimo per il liceo classico. Nella sede di via Piodecimo è presente anche il liceo musicale per cui sabato genitori ed alunni comunque interessati ad avere informazioni sul liceo musicale possono tranquillamente frequentare l'open day dalle 16 alle 20. colgo anche l'occasione per dire che chiunque è interessato ad iscrivere i propri figli al liceo Gatto, qualunque sia l'indirizzo, può già fare l'iscrizione sabato per quanto riguarda il liceo classico e musicale nella sede di via Piodecimo per gli altri indirizzi nella sede centrale, senza ovviamente poi collegarsi online o andare in segreteria, insomma è un modo per facilitare le famiglie anche l'occasione per dare altre informazioni ovviamente.